Fedez racconta la stravagante nonna quasi centenaria. Un coraggio da leoni li accomuna nell'affrontare i disagi del, forse ora qualche risposta in più la otteniamo visto un membro speciale della famiglia Luci. Fedez ha spesso parlato della cara e longeva nonna a cui somiglia moltissimo. Se poco nell'aspetto, molto lo è in fatto di grinta e azzardo nei confronti dei malcontenti della, Federico è molto affezionato alla beneamata nonnina che a marzo ha spento ben 91 candeline. E, una donna bellissima con una forte lucidità di pensiero. Due occhi vispi e sgranati sul mondo che le permettono ancora di sognare ad occhi aperti. Luciana Violini è adorata da tutta la famiglia dei Ferragnez, e caparbia e tenace, non si arrende davanti al nulla. E, stata una fonte di incoraggiamento nella scoperta del brutto male che ha colpito il noto rapper qualche, Fedez e la nonna, un connubio di coraggio nelle sfide della vita. La salute dell'Arzilla vecchietta dopo l'intero, forse non è noto a tutti, ma nonna Tatiana in arte è una vera star del web. Ha aperto un profilo Instagram che conta quasi 200.000 follower, impressionante, e, proprio lei a dichiararsi, nonna imprenditrice digitale. Buon sangue non menti. Luciana Violini è molto legata anche a Chiara Ferragni e adora i suoi bellissimi nipoti. Spesso sono state postate delle meravigliose foto che ritraggono Luciana insieme a Leone e Vittoria. Un quadretto di armonia e serenità, l'energia della nonnina Sprint è insondabile. Addirittura chiama la nipote acquisita Chiara, collega. Insieme si divertono a presenziare alle sfilate di moda dove la bellissima Ferragni viene invitata come ospite. Non si stacca mai da Luciana, da poco si è concluso il mega concerto tenuto a Milano dalla coppia Glamour insieme al cantante DJ A. Lo spettacolo dal titolo Love Me era una sorta di beneficenza. La raccolta fondi è andata molto bene stando proprio agli aggiornamenti della nonna. Luciana è stata sottoposta ad un delicato intervento e Fedez non le ha fatto mancare la sua vicinanza. Eccoli insieme negli scatti alle dimissioni ospedaliere. La nonna Vip sta benone e incanta tutti con quella spettacolare luce negli occhi.